Il gruppo Estra è tra gli operatori energetici più attenti al clima. Lo rileva una ricerca statista Corriere della Sera. Su 600 aziende selezionate per fatturato o quotazione in borsa, Estra si colloca al diciannovesimo posto. Enea, l'Agenzia Nazionale per l'Economia Sostenibile ed Estra Concentria, insieme all'Università di Firenze, sperimenteranno nuove miscele tra gas naturale e idrogeno. L'obiettivo è distribuire energia sempre più pulita. Estra si conferma Energy Partner della Fiorentina. Il brand Estra, tornato a sponsorizzare la primavera maschile, comparirà sul retro delle maglie in tutte le competizioni di campionato e di Coppa Italia. Sono oltre 800 le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado che hanno aderito al progetto Scuole Viaggianti di Estra. Le iscrizioni alla piattaforma online del progetto sono possibili fino al 23 marzo.